L'ultimo episodio ho visto il cubo? non lo c'è da là si, non lo c'è da là andiamo vieno ah, ci c'è la miseria appoggia tutto qua mannaggia no Alezzani, dai 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 già Alezzano 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 comunque, tocca aspettare a fare il bordo andiamo eh vai vai Alezzano vai Daniele cavallo, tene paura, putta dentro se era fuori che cammina via vai 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 Mucchiaia? Vai Angelo, vai! Vai Angelo! Vai Angelo! Vai Angelo! Che macello sta partenza! Sai che hanno fatto partire agli Amadori e poi hanno fatto partire agli Amadori Il primo giro lo vedi un po' a cavolo Gli Elite non prende agli Amadori e si fa più davanti Questa è la gara dell'Aki Sto facendo una federazione per chi ne va via Eccolo qua, vedo un po' se riesco a fare qualche foto come Dio con me Vai Angelo! Vai Angelo! Dai! Vai Angelo! Vai Angelo! Vai Angelo! Vai Angelo! Il fornello è il partito dopo, no? No, il partito non si fa così No, ma si sta commentando No, ma si sta commentando No, non ci sono 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 a lei Rocco dai a lei Daniele a lei ma stai a lei l'altro è il mio lavoro quello che si è ora dai vai Giove vai Giove va bene anche pure il giro sta a continuare a studiare questa fruttanistica spero non lo trova oh non le riescono a farlo fa un percorso ma qua no ma qua basta che che facevano, non ti rivieni qua a mezzo ma qua dovevano far scaricare le quattro cami di terra ma qua dovevano far scaricare le quattro cami di terra ma no, la facciamo, vai via così, attraverso si, però se pure vetti le quattro cami di terra poi mica i tuoi, qua parli di dirvelo, capito qua il basso mica i tuoi portati via vedi i sogni? si, si veniva dal mio più bello veniva tu sempre ti mandi laggiù pure per i cammini ma come fanno tu là, senti un cazzo, non c'è capito tu mi devi dire, oh, ma qui sono 20 km qui gli fa fa 20 km, ma gli gli fa fa avanti e dietro no dai, il percorso del questo, cazzo è tutto ma che c'è un posto di scienza per bene, i circuiti cazzo è tutto un po' più cinque appunto, qui le faccio ha un po' più un po' più piacere questo non ci vuole vanno io cazzo è tutto ma La capanella è bella, ma è uguale, ma è un ponte di Natale, dopo l'anno lo fanno un minuto. La capanella è bella, ma è un ponte di Natale. La capanella è bella, ma è un ponte di Natale. La capanella è bella, ma è un ponte di Natale. La capanella è bella, ma è un ponte di Natale. La capanella è bella, ma è un ponte di Natale. Allì, mette! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Dai Matteo Grazie a tutti Grazie a tutti Vai Marco Grazie a tutti 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 Buro Marco Grazie a tutti 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 Grazie a tutti